risvegli i notturni nervosetto essi è molto facile perché tantissime persone anche che vengono da me in studio soffrono di insonnia si svegliano sempre circa all'interno delle solite due ore in realtà c'è un orologio bioenergetico perché ogni due ore c'è un organo che diciamo non è che possono lavorare tutti quanti insieme alla stessa velocità ogni due ore c'è un organo che lavora a velocità un po più alta degli altri insomma gli si dà un po più spazio perciò nell'ora ricorrente di una determinata sintomatologia si può andare a vedere l'orologio bioenergetico che ti faccio vedere adesso questo è l'orologio bioenergetico perciò ogni due ore come puoi vedere c'è un organo che lavora di più ma se ti risvegli dalle 23 alle 3 della mattina questo l'orario del fegato e delle vie biliari perciò vuol dire che stai trattenendo del nervosismo e tutto questo nervosismo a un certo punto va a sovraccaricare questo sistema non è che stai ammalato il fegato solo sovraccarica un sistema perché ti dà dei campanelli d'allarme e ti avvisa ovviamente di non superare il limite per poi non ammalarti perché ricordati sempre che i pensieri determinano la tua salute grazie a tutti